Cari amiche e cari amici buona domenica qui nella tuscia viterbese è uno spettacolo un bel venticello di tramontana tiepido giusto un bel sole blu qualche nuvoletta qua e là la minuccia che mi gira intorno alla panchina oggi posso essere all'aperto non sono andata al parco perché in effetti ci sono un sacco di zanzare qua si sta bene ecco diciamo c'è un po' le chiappe sul duro ma poco importa un salutino che si preoccupa che io non sia creativa ma è una preoccupazione per la mia salute mentale o per la vostra o per la loro qual è ma sto discorso ma perché a che pro a chi serve cosa bisogna dimostrare perché c'è un patentino che qualcuno io non li voglio da quelli patentini secondo me sono già belle patentate sono donne sono donne vabbè donne sono quella roba lì e quindi buona giornata poi con me casca male perché non è che sono la prima venuta io e l'altro sono manco missoni ma mi chiamo di simone ma cioè è veramente ma veramente veramente a designer a designer che usatela qualunque ma corgete manco se è lino non è lino vi va bene tutto purché eh ci se ne parli ma brutte figure brutte so contenti loro se devono dire che io non sono una creativa ma frega più ma perché che gli frega allora che gli toglie che gli aggiunge fa attenzione alle diffamazioni perché faccio l'elenco e ve l'ho fatto un bel video adesso non c'ho voglia di caricarlo ho da fare ho da fare io ho da fare buona serata divertitevi con me amiche vai che scellerati in giro per il mondo anche sciocche 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 senza sale senza sale in zucca un battesimo sciocco 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 la meno si gironsola qua sulla nella juoletta se è bello come è bello stare all'aperto come è bello tessere all'aperto ma mi avessero visto in due nel mondo brutte figure non sono una creativa ma mi fa ridere questa asserzione e invece dire e quindi forse anche no sono un opinionista ma come riescono proprio quattro termini in croce lì si vede che cosa seguono nei canali mainstream formazione di quella pesante proprio cultura termine a caso opinionista avete imparato lì l'altro giusto perché se no ciao amiche non ce l'ho con voi manco con gli amici via manca un cioccolatino oggi voglio il cioccolato con le nocciole che mi fanno male un moscerì un bacio perugina un boero con la ciliegina ecco mi è arrivata la macchina a fianco ciao